Il 23 dicembre 1896 nacque a Palermo Giuseppe Tomasi, duca di Palma, principe di Lampedusa. Un uomo nobile che scrisse un grande libro, un unico grande libro, Il Gattopardo. Libro che all'inizio faticò a trovare un editore, poi trovò un editore, poi vinse il premio strega. Nel 63, Lucchino Visconti, grande leggista italiano, lo usò come sceneggiatura per un film celebre, Il Gattopardo, per l'appunto, con lo straordinario Bart Lankasser e un grandissimo Lendelon. Questo libro e questo film consacrarono la figura di Tomasi Lampedusa in Italia e nel mondo. Tutt'oggi quel libro viene considerato un po' una metafora non solo della Sicilia, ma probabilmente anche dell'Italia nel suo insieme. Un paese che stenta a rinnovarsi, che stenta ad accettare il cambiamento e che quando proprio è costretto cambia tutto, affinché nulla cambia.